Secondo il rapporto di Lega Ambiente-Ecosistema Urbano 2023, Bari è al novantesimo posto in una classifica che valuta le performance ambientali di 105 comuni italiani. Con 10 alberi e 9,4 metri quadri di verde per abitante, lontana dai modelli come Modena e Isernia che invece vantano 117 alberi e oltre 1000 metri quadri di verde pro capite. Eppure i benefici di avere città più verdi e ricche di alberi sono stati largamente dimostrati. Gli alberi mitigano il clima, riducono l'inquinamento, migliorano la salute fisica e mentale, proteggono la biodiversità e il suolo, assorbono la CO2 restituendo ossigeno. Per queste ed altre mille buone ragioni abbiamo deciso di piantare a Bari il primo bosco didattico di comunità andando a rivalutare un territorio già caratterizzato da terreni abbandonati, cementificati oppure consumati da agricoltura intensiva. Con l'associazione autoctone di rimboschimento di comunità da quattro anni coltiviamo specie tipiche del territorio in vivai casalinghi e di comunità gestiti da scuole, aziende e privati. Abbiamo ad oggi a disposizione circa 700 tra alberi e arbusti pronti per essere messi a dimora. Con le vostre donazioni ci aiuterete ad acquistare un terreno e a piantumare centinaia di alberelli. Proprio come questo? Esatto e anche a predisporre un impianto di irrigazione e a creare un percorso didattico destinato a scuole e famiglie. Il nuovo bosco sarà un luogo della comunità per la comunità dove i più piccoli potranno imparare il rispetto della natura attraverso percorsi di riconoscimento della flora autoctona e laboratori per imparare a riprodurre le piante. Sostieni oggi la nostra campagna di crowdfunding con una donazione perché per Bari un futuro più verde è possibile. Piantiamolo insieme!